Ragazzi, scusate, siete bravissimi, siete due di una grande professionalità, però io lo dico, a Napoli voi non farete mai niente, a Milano che si fanno i soldi, a Milano, ma sapete quante metropolitane ci sono, quante stazioni a suonare, cu capello, fate i soldi, io ve l'ho detto, a Napoli, sentite a me, vi diamo il suo caffè, c'è, non a me neve, però Milano, a me neve, vedete lì, non c'è l'orario, Milano, ah chi sei? Milano, ah chi sei?